Dal 9 al 13 agosto torna Francavilla Blue Bar, Maurizio Malabruzzi, direttore artistico, un'edizione con grandi nomi. Sono cinque serate dal 9 al 13, ogni sera ha un nome, un tema. La prima serata con Renzo Arbore ed è dedicata alla musica italiana. La seconda serata la canzone d'autore con Ron, Ernesto Bassiniano e Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pui, in una versione che non conoscete, solamente con la chitarra, farà delle cose straordinarie. Terza serata dedicata al rock con i Pink Floyd Legend, sono l'unica formazione italiana ma a livello internazionale che sa riprodurre e forzare il suono e la musica dei Pink Floyd. Poi ancora Neapolitan Sound, chiudiamo questo trittico che abbiamo fatto nel corso degli anni, nuova compagnia di canto popolare e Edoardo Bennato, il primo vero cantautore rock italiano. In chiusura la melodia italiana espressa nel migliore dei modi, Massimo Ranieri, con un tour che sta portando in giro in tutta Italia, con grandissimo successo. E a Francavilla, vedrete, sarà un grandissimo successo anche questo. Come siete riusciti a portare questi grandi artisti a Francavilla nel periodo più importante dell'anno a livello turistico? Ormai abbiamo anche un nome, non so come dire, per cui diamo certezza, diamo sicurezza. Per esempio, Arbore domani, il 9 agosto, qua dentro il municipio di Francavilla, riceverà la cittadinanza onoraria. In quanto Arbore, durante la guerra, alla fine della guerra, veniva in vacanza con i genitori qui da Foggia e veniva qua. Ci divertiamo, faticando tantissimo, anzi ci prendete veramente in un periodo, stiamo ultimando gli ultimi dettagli per Piazza Sant'Alfonso. E niente, ho il lavoro tutto l'anno, in sintonia, in grande sintonia con l'amministrazione comunale capitata da Antonio Luciani, l'amico Antonio, perché veramente quest'anno ci sono stati vicini per questo cambio di piazza che è stato veramente faticosissimo. Però ci sono tutti i presupposti per tornare in Piazza Sirena.